Il segretario nazionale di Noi con l'Italia Lupi in Calabria ha sostegno di occhiuto e delle decisioni del centro-destra per le prossime elezioni regionali. Partiamo dalle prossime elezioni regionali. Qual è la vostra posizione e la posizione del centro-destra? Mercoledì al vertice del leader del centro-destra, anche Noi con l'Italia ha approvato la candidatura di Roberto Occhiuto. Credo che sia la candidatura più autorevole che si possa mettere in campo, anche perché dalla Calabria deve continuare la sfida che avevamo iniziato con Iole Santelli, cioè quella di riportare la Calabria al centro e nel cuore del Mediterraneo. Il Sult è la vera capitale del Mediterraneo. Ed è per questo che ha bisogno di serietà, competenza, passione e che si riparta anche dalle risorse che la Calabria ha. Penso alla sanità, alle infrastrutture, all'agricoltura, al turismo. Quindi è un lavoro da fare, lo faremo insieme con Roberto Occhiuto e lo faremo insieme con la nostra lista di Noi con l'Italia. C'è la certezza del sostegno da parte di tutti? Occhiuto lo possiamo dare per certo? O ci saranno poi passi indietro, come vediamo anche dall'altra parte? No, io credo che la coalizione di centro-destra ha dimostrato una compattezza e unità totale. Lo abbiamo fatto sul sindaco di Roma, sul sindaco di Terreno, la settimana prossima sui sindaci di Milano e di Bologna e anche sulla regione Calabria. Matteo Salvini, che da leader della coalizione di centro-destra si è assunto questa responsabilità, credo domani ci sarà Antonio Tajani qui proprio per annunciare la candidatura della Presidente Occhiuto. Ma la sfida è la sfida di ritornare ad appassionare tanti che si sono allontanati dalla politica anche in questa regione per dire che abbiamo bisogno di rimboccarci tutte le maniche, tirarsi su le maniche e dire che si può guardare con positività al futuro. Lei ha citato, ha fatto della lista, quindi ci sarà una lista di Noi con l'Italia. Quali saranno i criteri con cui sarà composta questa lista? Beh, intanto abbiamo rimesso insieme tantissimi amici che hanno messo a disposizione la loro esperienza. Penso a Michele Ranieri, penso a Nino Foti, penso a Franco Bicchieri, che hanno messo la loro esperienza a disposizione del rilancio di questo progetto. Ma la cosa più importante è anche ritornare, che la politica riappassioni un pezzo di società civile. Penso all'associazionismo, penso alle professioni, penso alle persone che forse è il momento in cui si scenda dal balcone, la si smetta di criticare che le cose non vanno bene e che si ritorni ad essere protagonista. Noi con l'Italia dà questo contributo nell'ambito del centro-destra, vuole rimettere insieme e vuole che i moderati tornino ad essere sempre più forti. In Calabria si vota anche in una città importante come Cosenza, da questo punto di vista noi con l'Italia. Cosenza abbiamo tra l'altro un amico e una persona autorevolissima, che è Franco Bicchieri, che credo sia stimato da tutti e quindi mettiamo a disposizione questa persona, questa personalità e il movimento e la stima che Franco ha da parte di tutti, dall'associazionismo cattolico alla società civile. Ma come sempre lavoreremo insieme e decideremo insieme perché questo è il metodo che ci contraddistingue dalla sinistra. Non ci dividiamo, siamo insieme, lavoreremo e scegliamo i migliori che possano dare certezza e serietà ai cittadini. Restando sull'amministrativa, le grandi città, lei ha citato prima anche Milano, dovrebbe chiudere, presumo alla prossima occasione. Lei è un nome che circola molto, c'è qualche resistenza dalla parte della Lega, così risulta. Com'è la situazione? Allora, intanto mercoledì decideremo. Ci siamo dati un metodo. Salvini, dal leader della coalizione, tra l'altro milanese come me e come Silvio Berlusconi, e come Ignazio Larussa, ha chiesto un altro i due giorni per verificare una serie di candidati, perché la priorità per noi è l'espressione della società civile. Non ci possono essere fibrillazioni su nomi che non ci sono. Io partecipo al tavolo nazionale dal leader di Noi con l'Italia, insieme agli altri, e quindi decideremo mercoledì tutti insieme. Un'ultima domanda per quanto riguarda me. La federazione centrodestra, Noi con l'Italia, è rimasta ancora alla finestra su questo aspetto? No, noi abbiamo subito detto, quando Matteo Salvini ha lanciato la proposta di una federazione di coloro che sostengono il governo Draghi, quindi Lega, Forza Italia, Noi con l'Italia, abbiamo subito detto che l'idea ci sembra interessante e importante. Bisogna approfondirla, bisogna capire lo scopo. Ci si mette insieme in una federazione per vedere quali ideali, quali valori, quali programmi, quali regole. Non può essere un'annessione, non può essere una fusione a freddo, deve essere la possibilità di rendere più forte l'idea che il centrodestra torni a governare, il sostegno al governo Draghi, ma contemporaneamente anche la certezza che nel 2023 il centrodestra tornerà a governare il Paese. Io credo che ci vogliano delle novità e quindi ritengo che la proposta di Matteo Salvini sia una proposta che riapre, che rimette in gioco. è tutto da costruire, è tutto da vedere e quindi come sempre di giusto nella vita, questa è la caratteristica dell'Unione d'Italia, noi laddove questa avverrà ci saremo al tavolo e a lavorare insieme, insieme con Forza Italia e con cui abbiamo un dialogo privilegiato e vediamo con chi altri ci starà. Grazie.